al banco della banca, il banco sbanca, vincono tutti, no, vincono i totti, piove sempre sul bagnato, giove sempre sul cognato e piove sempre sul magnato e se non è zuppa è pan bagnato e quindi ci piove sopra. Sono lì assorto in un pensiero ritorto, sicuramente ragionevole sebbene contorto, quando il commesso si schiarisce la voce con un colpo, un colpo di tosse, un colpo di fucile, non importa, fatto sta che il gesto ha l'effetto di una calamita perché attira la mia attenzione, calamita direbbero i francesi ma si sa loro si lasciano attrarre dalla disgrazia, chiedo al commesso quale crimine ho commesso per meritare un tale colpo mi venisse un colpo, mi risponde, servo suo, a cosa servo se non la servo? Ha ragione penso contorto, anche se preferirei contorta perché sono goloso, e la golosia è una brutta cosa, ha fatto naufragare molti rapporti, non mi scorderò mai la mia luna di miele, tutti quei crateri così dolci. Peccato per gli orsi, che diciamo disturbavano un po' con il loro brutto carattere, così scontrosi, chiusi, un po' orsi, ma la luna di miele, di miele, ce l'ha il picciolo, insomma in banca, vorrei accendere un mutuo, mi rispondo, cioè scusi, vorrei accendere un mutuo, insomma vorrei mutuare, il commesso mi guarda a mutolito, lo accendo, scusi, è possibile mutuare, fare un mutuo, un mutuo a un mutuo, ma un mutuo è un mutuo con un difetto di pronuncia, sai io ho un difetto di provincia, nel senso che dopo l'ecco e l'odi non mi ricordo mai che cosa c'è, dimentico sempre il capoluogo, esplora Milano, disse una volta al medico sportivo, prima di entrare negli anali del calcio, ma questa è tutta un'altra storia, e poi ora le province sono dodici, c'è monza e brianza, stronza e bonanza, bronza e finanza, tonza e padonza, seme e semenza, sceme e scemenza, penne e penitenza, fatto, fattanza, devo fare un mutuo, ma i mutui si fanno alla mutua, cioè quindi è mutuabile, ha delle garanzie, zie che garantiscano, padri che fideiuscano, qual è il suo mestiere? e il tempo è determinato e lei è un lavoratore temporizzato, bisogna controllare la data di scadenza sul retro della confezione, sai io mi arrangio, diciamo che tiro a campane, ed è faticosissimo perché pesano tonnellate, scusi sa, non vorrei rubarle il tempo, il crimine non paga e i soldi mi servono molto più dei commessi, avrei dovuto lavorare in posta, si sa, la busta paga, il mutuo quindi non è mutuabile, cioè il fatto è infattibile, l'abi è inabile, il cab non è cabinabile, e l'iban, i banchi, com'è i banchi? iban, il terribile, cioè capito? lo zar di Prussia, Promania e Olonia, capito il gioco? basta aggiungere una P davanti al nome, toglierla se c'è già Prussia, Promania, Olonia, niente mutuo dunque, né a me né a mutuo, né in Prussia né in Olonia, ma che piscia di paese è il nostro, Pitalia?